La qualificazione alla semifinale di Champions, alla finale di Coppita, gli ultimi risultati in campionato chiaramente ci hanno fatto preparare al meglio tutte le partite. Poi domani sappiamo che è una semifinale di Champions, è un derby, anzi il derby sappiamo tutti, non ci nascondiamo l'importanza che ha per noi, per la nostra società, per i nostri tifosi e lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Dallo spirito arriva bene la squadra, penso che abbia detto bene Federico, bisognerà usare tantissimo test e cuore, per quanto riguarda il cuore non ho nessun dubbio, per quanto riguarda la testa dovremo essere bravi ad usarla perché ci saranno delle insidie e degli imprevisti durante la gara sapendo che è una gara che si gioca in 180 minuti. Senti che sia la doppia partita più importante della tua carriera? Ma senz'altro, una partita importantissima come sono state tanti finali, quindi chiaramente questa sappiamo cosa rappresenta, non è un derby ma è il derby, l'ho detto prima, lo ridico adesso, sappiamo cosa rappresenta per noi, per la nostra società, per i nostri tifosi e anche per me stesso. Insomma sono abbastanza sereno perché ho visto in questi giorni i ragazzi lavorare molto concentrati, sappiamo che sarà una partita che si deciderà non domani sera ma in 180 minuti. No, chiaramente sai, dopo aver passato un girone con Barcellona e Bayern che chiaramente reputo due tra le squadre più forti d'Europa, chiaramente il gruppo, la squadra ha preso grande consapevolezza, poi sappiamo che tutte le partite sono difficilissime, difficilissime, il Porto e il Benfica sono stati due scogli molto molto difficili da superare, li abbiamo superati e adesso ne manca una ancora più importante per arrivare alla finale.